Parliamo ora di un argomento particolare, un argomento che starà a cuore a tanti italiani, le liste di attesa in ambito sanitario, ma voglio focalizzare l'attenzione sulla realtà della Puglia. Perché la Puglia non è un'isola felice, anzi, ma non deve neanche valere la logica del cosiddetto malcomune mezzo gaudio, nel senso che se le liste di attesa eterne, lunghissime, presenti in varie parti d'Italia affliggono gli italiani, questo non deve essere un motivo per far sì che i pugliesi possano, per così dire, consolarsi nell'ottica di dire appunto è così per tutti. Voglio farvi vedere la sproporzione, lo squilibrio, l'abisso che c'è tra i tempi di attesa per una prestazione in regime pubblico e una in regime privato, con il regime intramenia. Una visita cardiologica nel pubblico 71 giorni di attesa, la visita cardiologica appunto 7 giorni di attesa, visita chirurgica vascolare 84 giorni contro 8 giorni, Visita dermatologica 40 giorni contro 4, visita oncologica 18 giorni contro 5, mammografia 214 giorni contro 7, Tac torace 52 contro 3, risonanza magnetica 111 giorni contro 13, ecocolordoppler cardiaco 77 giorni contro 3, ecografia della mammella 210 giorni contro 12, colonscopia 129 giorni contro 10, visita gastroenterologica 40 giorni contro 2, elettrocardiogramma 32 giorni contro 5. Ho voluto farvi vedere proprio l'assurdità e uno dice, ma io ho un problema alla mammella, ribadisco il dato, ribadisco la cifra, 214 giorni contro 7, pensate un po'. Nel frattempo in questi 214 giorni, siamo praticamente quasi a due terzi in buona sostanza di un anno più o meno, una persona è passata all'altro mondo, pensate un po' voi. Nel frattempo però se può pagare privatamente va e risolve i suoi dubbi in 7 giorni, pensate un po'. Il problema è vario, è vasto. Certamente la Regione Puglia non ha agito in maniera tempestiva, non sta agendo in maniera tempestiva per risolvere questo problema e ora c'è tutta una polemica tra le varie ipotesi per, non dico risolvere il problema, ma comunque per ridurlo drasticamente. C'è stata la proposta del consigliere Fabiano Amati, il quale dice a questo punto blocchiamo l'attività di libera professione dei medici. La razza è che se i tempi di attesa sono nettamente diversi tra la prestazione offerta dagli ospedali o ambulatori territoriali e l'attività invece libero professionale, il regime, il rimedio è l'interruzione temporanea di quest'ultima, dell'attività in libera professione. Poi si è avanzata un'altra ipotesi, quella di forse una posizione più moderata, nel senso di, si è detto, e questa è l'ipotesi anche sposata da Emiliano, analizziamo reparto per reparto, settore per settore e vediamo se non si riesce a migliorare, allora a questo punto il 5% dei proventi degli incassi dell'intramenia noi lo investiamo per acquistare prestazioni nel pubblico. Anche questa mi sembra una soluzione che evidentemente cerca così di essere meno drastica di quella proposta da Fabiano Amati. In ogni caso, io non sono certo un santone e non ho la presunzione di dare consigli in un settore che peraltro non è il mio, non sono un medico, non sono un manager della sanità, però io dico che si potrebbero tranquillamente evitare tanti sprechi nella sanità, perché ce ne sono tanti e allora a questo punto evitando gli sprechi si potrebbe investire in personale sanitario, quindi in infermieri, in medici e in attrezzature sanitari, in strumenti di diagnostica. In questo modo ovviamente se tu vai a tagliare gli sprechi puoi avere più personale, puoi avere più macchinari e automaticamente puoi fare più visite, puoi fare più esami. Questa è la razio, questa è la logica, voglio dire. Però gli sprechi nella sanità sono tanti, avete visto anche la storia, lo dice non solo in Puglia, in tante parti d'Italia attrezzature acquistate che stavano lì sigillate, impolverate, incelofanate da anni, questo è uno schiaffo a chi sta crepando. Ma questo proprio per farvi capire come, ripeto, non deve così farci cullare il fatto che le liste di attesa siano un problema presente in tutta Italia, ma la logica del malcomune Mezzogaudio va abbattuta, ma soprattutto occorre ridurre gli sprechi. Quindi riducendo gli sprechi noi possiamo dare una, non abbattiamo le liste di attesa, per carità, però quantomeno le riduciamo sensibilmente. E poi, permettetemi, una difesa del mio territorio, anche quei taranto, quei territori particolarmente svantaggiati dal punto di vista ambientale, in termini di liste di attesa e quindi come incremento di personale e di strumenti, devono avere una via prioritaria, devono avere un canale privilegiato, perché qui stiamo parlando di taranto, di una realtà che muore di tumore. Allora non puoi dire all'ammalato, alla persona che ha problematiche, di aspettare. Capite il problema? Per non parlare poi, anche qui abbiamo dimenticato un altro discorso, quindi in queste condizioni, se l'esame diagnostico slitta di chissà quanti mesi, immaginate parlare di prevenzione, prevenzione è un assurdo, perché se non c'è il tempo per curare chi sta male, figuriamoci per prevenire, quando invece la prevenzione è importante, perché la prevenzione ti evita un male e ti riduce quei costi sanitari e sociali derivanti appunto da quel male. Ma forse è opportuno che oltre ai medici, proprio in questo settore, è necessario che intervengano i manager, forse anche consultarsi con esperti di altri paesi. Ecco, un'idea che mi sovviene, mandare magari i nostri manager sanitari all'estero, nei paesi nordici, lì non esistono liste di attesa, lì la sanità pubblica è sacrosanta, il cittadino viene servito e riverito, lì non c'è bisogno di andare per campare, per salvarsi, di ricorrere alle visite private o agli esami privati. Ecco, magari mandare i nostri amministratori locali, regionali, mandare i nostri manager sanitari in quelle zone nel nord Europa servirebbe ad arricchire il loro patrimonio proprio di conoscenza. Ripeto, non è un'offesa, però dico, se ci sono dei paesi molto ma molto civilizzati, paesi che dal punto di vista della gestione sanitaria ci sanno fare, sono vincenti, perché non prendere esempio da loro? Allora, una bella vacanza, chiamiamola vacanza di istruzione, un bel periodo di studio presso questi paesi evoluti, perché l'Italia dal punto di vista sanitario e terzo mondo servirebbe a, ripeto, a acculturarsi e soprattutto a migliorare l'offerta sanitaria, perché ricordiamo il cittadino, i cittadini italiani e pugliesi in particolare non sono delle bestie, hanno un diritto che forse qualcuno dimentica, il diritto alla salute, costituzionalmente garantito, ma si sa, purtroppo in Italia la Costituzione è carta morta. Senza Bavaglio, informazione libera, sempre.